È Natale. Si sente in ogni via, in ogni strada di ogni borgata, in ogni contrada una voce portata dal vento che annuncia al mondo un lieto evento. Dentro una stalla, in una mangiatoia, in tanta povertà è nata una gioia. Il freddo intenso, il pino imbiancato fanno da cornice al neonato. Con l'alito del bue e dell'asinello si scalda il neonato bambinello, si accende un grande fuoco nella via, suona lo zampognaro in allegria. Si vede la gente che accorre l'esta e le campane che suonano a festa, i re magi che portano i doni, mentre nel mondo tuonano i cannoni. Per colpa delle persone senza cuore, combattendo tanta gente muore. Facciamo un grande appello, brava gente, che il male si allontani da ogni mente, affinché nel mondo ci sia sempre la pace, suonino le campane e il cannone tace. Uniamoci fratelli per pregare. Oggi è un grande giorno. È Natale.